Una serata all'insegna del divertimento, sabato in Piazza Umberto, lato Chiesa Madre, sfilata di moda organizzata da Conci Event nell'ambito delle iniziative promosse dall'amministrazione comunale per il Carnevale 2016. Ragazzi e ragazze hanno sfilato indossando maschere d'abiti da sera o casual, un evento perfettamente riuscito. La manifestazione è stata presentata da Licio Gatto, pubblico in freddolito per le basse temperature. Sul palco anche la giovane gelese Cristina Tabicchi ha avuto la possibilità di lavorare in Puglia con un fotografo. Conci Event sforna talenti in un periodo assai critico per l'occupazione in città. Nel corso dell'iniziativa l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio di Bartolo, ha preparato e distribuito numerose frittelle. I negozi del Centro Storico sono rimasti aperti fino a mezzanotte. Domani, martedì 9 febbraio, dalle 10 alle 13, sfilata e maschera con gli alunni delle scuole primarie e secondarie, banda musicale e maggiorette. Dalle 10 alle 14 in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura dell'Istituto Alberghiero. Alle 13 a 30 in Piazza Umberto I, premiazione della scuola per la maschera più bella a cura di Gela Centro e Conci Event. Dalle 18 alle 21, sfilata ed animazione della banda musicale ed in Piazza Umberto I, gastronomia e distribuzione di frittelle a cura sempre dell'Istituto Alberghiero. Grazie. Grazie. Grazie.